e ciao cari amici benvenuti in questo nuovo speciale grazie per i 90 iscritti per i 709 follower su tiktok e tu quando ce n'hai su instagram su instagram ancora 7 iscrivetevi sul canale di instagram di freddy gamer sul mio canale di tiktok buoni gamer o antonino italiano e anche ancora grazie per questi 90 iscritti su youtube iscrivetevi sempre al canale infatti e ammaccata la campanellina questo è lo speciale innanzitutto vi volevo annunciare questo ok ci vediamo tra un po eccoci qua su roblox mia bellissima skin comunque già sento gente che si sta ammazzando sta facendo un rissa un arco e una spada si deve andare in un gioco per giocare roblox si dentro roblox ci sono dei giochi vediamo cosa mi è uscito delle accette delle accette si aspettate che mi metto grafica e poi che schifo il ponte rosa aiuto guarda che posso andare scusami non è capitato questo a me non è un ponte volo di bomb mi viene un gioco e questo è un gioco e cosa vuoi fare? voglio andare da chi bloc ammazzare la gente e cose varie Raga ricordate di scrivere i miei piedi, mi chiamano nel mio canale No, aiuto No, sto subendo Aiuto, 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 scappo, scappo, scappo Aiuto Aiuto, 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 aiuto Aiuto Sì, l'altro, l'altro blocco è pronto Abbiamo qualcosa di fortunato Il coltello Ha dovuto ammazzare con la renna Che ne fa a renna Quindi io mi penserò quando avremo scendoscritti cosa farò Una festa enorme A proposito, dincelo Davide Buceppe Con il bandone E qua che abbiamo non descritti Eppure salutiamo chiaramente loro A DJ Non alle DJ, no, non c'è che non ci fanno E te che non ci fanno Ma non ci fanno Via Sto passando, sto passando No, no, no Aiuto A iouto, scappo, scappo, scappo Scappo, scappo Scappo, scappo, scappo Sì, vai Sì, vai Davide Guarda come lo faccio saltare in aria L'ho sciotto Guarda, io sono Io ho superato la prigione Ho superato il cimitero Ho superato pure la zona di guerra Dei militari Di Capitano America E ora sono quello E ora sono quello Il più rinforzato E mi devo ammazzare così faccio soldi Capito? Ho visto dei soldi Via Muori male Brutta guardia Qua Ho un botto di soldi C'è già un milione Davide Il primo è Spider-Man Il primo supereroe è Spider-Man No, no, no Aiuto, 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 aiuto Aiuto, aiuto, aiuto C'è urto, aiuto Io voglio ammazzare C'è Superman pure Aiuto Mi hanno ammazzato Quanti minuti ti vedi? Cinque Sono tornato, buonasera C'è pure Spider-Man Il primo è Spider-Man Poi Capitano America Prima No Prima c'è Spider-Man Che costa poco Poi c'è Cat-Woman Mi pare Fa schifo Cat-Woman È femmina Sì, però è fortissima Poi di lei C'è Superman Poi c'è Capitano America Poi c'è Iron Man Poi c'è Batman Poi c'è Thor Poi c'è Hulk Poi l'assistente di Thanos Dennis E poi Thanos Che costano entrambi i Roblox Appunto E io sto lavorando Per prendermi Per un 4 milioni e 900 Per Batman Per Batman Però Da una settimana Ci ho giocato un botto Di Zainetto Vorrei qualcosa di più Perché c'è solamente Non schifo di Zainone Ma hai Certo Li devi ammazzare Tu Ma cosa Dopo Che avrai Spider-Man Prenderei I soldi Che ti danno Poi Hai Tanti Teschi Innanzitutto 20 800 Monete Teschi Onde teschi c'hai? 20 20 Ora vai Dentro C'è Un omino Verde Un cerchio Dove c'è scritto Cell Ci vai E con questi teschi Ti date i soldi Poi c'è la prigione Davide Poi c'è la prigione E poi c'è il civitero Poi la zona di Capitano America Un tizio se ne voleva Andare Via Via Pure un prigioniero Che schifo Via Almeno sto video non fa ne Almeno 14 minuti Aspetta Ma dove è il video? Video Eccolo 8 minuti Sì Sì Non lo vedo più Non lo spaventato Non mi annoiava Poi c'è il cimitero Via Ma quello è il cimitero questo? Sì Non vedi tutte le tombe Sì Poi c'è la zona di guerra Di Capitano America E poi c'è questo Che non ho capito Che cosa è Guardi Guardi Fammi vedere Le sky Scarpe Qualcosa del genere Ucciso Prima guardia ucciso Perché non so usare mai sto raggio E' la gelase E' la gelase E' la gelase Morning Unicamer Che c'è? Almeno ora possiamo fare anche meglio Sul micrase Perché io ho il nuovo telefono Sì Ovviamente A proposito Si è scaricata Quell'app Per dire Non si Non si è scaricata Ancora 64 C'è ho messo pure il wifi E dati i mobili Nooo Sono caduto Non sei morto Sì Forra il città Sono tipizzato Raggio Laser Ma Mandone un'idea Perché non si mette più i commenti Secondo te Lo so perché Ho occupato Un criminale davanti a me Certo perché l'hai ammazzato Certo perché l'hai ammazzato Secondo te Potrebbe anche chattare almeno Fammi vedere Dove sono Dove sono Dove sono Vai Hulk Ammazzalo Ammazzalo Seloce Davide Ma c'è Un po' di aiuto Per ammazzare Sto Cosa gigante Ti basta Io vado a combattere C'è un tizio nudo Un tizio nudo Ciao tizio nudo Ma una rosa No 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 Hulk 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 Aiuto Aiuto Mi è meglio Roblox o Blockman Go Entrambi sono meglio Aiuto Madonna Mi è ammazzato Mi ha ammazzato Hulk Passa quanti minuti Undici Trovo che devo terminare Aspetta Davide dove sei Che dobbiamo terminare il video Eccolo 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 Eccoti Eccolo sono pronto A che Da Freddy Gamer Bunny Gamer E Davide WGF Ciao Ciao